Torna l'appuntamento più goloso dell'estate, la Paellata di Coarezza a Somma Lombardo. In programma il 14 agosto è organizzata dalla Proloco guidata dalla brava Ileana De Galeazzi. Oggi voglio presentare una iniziativa che ormai da qualche anno viene fatta a Coarezza, la Paella. È una festa praticamente, aspettando Ferragosto. Abbiamo pensato che il Ferragosto di solito si festeggia in altro modo, magari in vacanza o in gita o in famiglia. E noi abbiamo pensato di aspettare Ferragosto tutti assieme, una piccola comunità come la nostra che si ritrova e fa comunità. La Paella è un piatto che a quanto pare piace molto, anche se non è nostrano, ma accomuna molti gusti. È una Paella che contiene tanti alimenti, tante cose buone. Carne, pesce, verdure e riso ovviamente. Viene cucinata alla Exa Scuola Elementare, che è la nostra sede, la sede della Proloco, in padelle originali, molto grandi. Possono soddisfare le esigenze di moltissime persone, di un centinaio di persone. Quindi aspettiamo tutte le persone che vogliono unirsi a noi, cuarezzesi e non. Vi invitiamo proprio a partecipare a questa serata, una serata di comunità, di stare insieme e di aspettare questo Ferragosto che speriamo porti qualcosa di buono a ognuno di noi, oltre alla Paella.